Pensa che anche l'amicizia di Enzo Pizzimenti e i suoi interessi verso il Belcanto possano aiutarla a sviluppare i suoi progetti, magari attraverso la realizzazione di un documentario che veda come protagonista proprio suo nonno? Io penso di sì, perché con Enzo abbiamo tutti e due, lui sta in America, quindi la cosa si può divulgare in America è che la mia nonna è molto conosciuta, pensate che c'è il Beniamino Gigli Day a New York, cioè il giorno dedicato a Beniamino Gigli, c'è il busto al Metropolitan, c'è la stella a Hollywood, quindi là è molto conosciuto. Ed Enzo Pizzimenti è, intanto posso dire che se avessi studiato solamente canto, sarebbe diventato un bel tenore, adesso è anche imprenditore, quindi chiaramente facendo due cose insieme non si può raggiungere la perfezione, però c'è talmente tanta passione, talmente tanta voglia di portare avanti il bel canto italiano che io credo che insieme qualche cosa faremo.